Conoscevate Daiichi Kamada? Potrebbe essere il nuovo acquisto del Milan. Dopo l'ultima sessione di calcio mercato che non ha entusiasmato i tifosi rossoneri, Malvini e Massara vorrebbero farsi trovare già fronti per la prossima stagione. Gli acquisti di Vranks, Desta, Dli, Origli e Dechetelare non hanno portato i frutti sperati. La speranza della dirigenza rossonera è che il giapponese possa fare meglio. Kamada è un classe 96 e di piede destro e il suo ruolo naturale è quello di trequartista. Può svariare e giocare su tutto il fronte d'attacco rossonero. Nella sua carriera ha giocato diverse volte anche nei due di centrocampo. Il suo contratto è in scadenza, arriverebbe al Milan a parametro zero. Quest'anno con l'Eintracht in Bundesliga, 9 gol e 7 assist in 32 presenze. Soltanto Bruno Fernandes ha segnato più gol di lui tra i centrocampisti nelle ultime 4 stagioni delle maggiori competizioni europee. E' arrivato in Europa nella stagione 2016-2017. L'ambientamento con l'Eintracht non è stato dei migliori. Ha dovuto andare in prestito in Belgio a farsi le ossa. Lì ha brillato da seconda punta segnando tantissimo. Ama inventare, giocare tra le linee e mandare in porta i compagni. Potrebbe essere l'uomo giusto per Stefano Pioli. L'uomo giusto per Stefano Pioli.